Come su tanti altri temi di governo, la cosa più importante è assumersi le proprie responsabilità e quindi avere le opinioni, verificare dal punto di vista dell'amministrativo la fattibilità degli atti e delle procedure e poi assumersi le proprie responsabilità, perché spesso è molto semplice fare una dichiarazione, più complesso può dare qual è la nostra dei comportamenti degli atti e dei servizi. Quindi noi vogliamo fare un'idea che confido che questo doppio passo, l'avventura della conferenza dei servizi e la conferenza dei servizi totalmente risolativa, cioè molto semplice, molto semplificata e molto trasparente da oggi, aiuti tutti ad essere, a collegare una coerenza di comportamento con tante varie. Quindi noi ci accingiamo con un grande spirito di servizio, noi vogliamo fare la nostra parte, ci assumiamo le nostre responsabilità, vogliamo che questo progetto sia valutato, e che diamo sia una grande opportunità e quindi ci auguriamo che tutti seguano con la stessa coerenza un atteggiamento di questo tipo. Ovviamente il giorno prima dell'apertura della conferenza dei servizi, che c'è anche un po' attimo, il fatto che l'ottoressa Valenti presenterà una conferenza e come ci sono detto ci sarà qualcuna realizzata nella regione, lo facciamo con questo spirito.